Maltempo, pioggia e vento sferzano la costa marchigiana In macchina con mezzo chilo di cocaina, arrestate due ragazze a Fano GAD su Il Sipario alla 74esima edizione del Festival Teatrale Finalmente WL battuta Trieste davanti al pubblico pesarese Eccoci pronti per il nostro telegiornale Buona serata, oggi è giovedì 7 ottobre Quella di oggi è stata davvero una giornata di pioggia pressoché incessante Accompagnata da forte vento che si accanito su gran parte della costa marchigiana Come vi mostriamo in questo primo servizio Settimane di siccità rotte da violente perturbazioni Un copione che si ripete con pioggia ma soprattutto vento Che negli ultimi due giorni hanno sferzato le marche accanendosi soprattutto sull'area costiera Più di 50 gli interventi dei vigili del fuoco delle marche Principalmente nelle province di Ancona e Pesaro Urbino Medzi di soccorso soprattutto chiamati in causa per rimuovere alberi di velti e rami caduti A Pesaro e a Fano sono soffiate raffiche di grecale attestatesi attorno agli 80 km orari Che hanno fatto cadere motorini, stroncato piante e creato alcuni allagamenti Vedi i sottopassaggi della bicipolitana in zona sottomonte Vegetazione scossa dal vento che ad esempio nel quartiere pesarese di Monte Granaro Ha tappezzato via Militegnoto dei frutti caduti dalla schiera di Ippocastani Che hanno letteralmente ricoperto l'asfalto Pioggia incessante ma di un livello che fino a oggi pomeriggio si è rivelato meno critico Del bollettino di allerta meteo diramato 24 ore prima dalla protezione civile delle marche E valevole fino alla mezzanotte di oggi Il livello delle precipitazioni è stato inferiore però a quello temuto E le piogge nelle marche sono rimaste contenute su livelli di cumulate Compresi tra 50-60 mm senza arrivare agli 80-100 mm preventivati E in queste ore i vigili del fuoco della provincia di Pesaro Urbino Non sono solo impegnati nei disagi dovuti al maltempo Ma anche nel supporto ai carabinieri per la ricerca di una persona scomparsa Si tratta infatti di una docente di 57 anni di Fano Che mercoledì mattina non si è presentata a scuola diventando completamente irreperibile A far scattare l'allarme il sopralluogo in casa della donna In cui sono stati trovati cellulare e chiavi dell'abitazione E chiaramente vi daremo notizie di questo fatto di questa donna scomparsa Nelle prossime edizioni del nostro telegiornale Rimaniamo a Fano dove due ragazze sono state arrestate Dopo essere state fermate al casello autostradale Con più di mezzo chilo di cocaina in macchina Fermate al casello autostradale Con più di mezzo chilo di cocaina in macchina Finiscono nei guai due ragazze di 32 e 36 anni Che la notte scorsa sono state fermate Dalle fiamme gialle del nucleo di polizia economica finanziaria di Pesaro Nell'ambito di un mirato controllo all'uscita di Fano della 14 Qui attorno alle 22.30 i militari hanno fermato la vettura in questione In quanto procedeva a velocità sostenuta Ben oltre i limiti previsti dal codice stradale Effettuato uno specifico controllo degli occupanti È emerso che una delle due donne a bordo Aveva precedenti in materia di sostanze stupefacenti Si è dunque deciso di perquisire il veicolo Con l'ausilio dell'unità cinofila E allora il rifiuto del cane Alex Ha segnalato come l'autovettura risultasse inquinata in diversi punti E che anche le due donne risultavano contaminate da contatto con sostanze stupefacenti Durante la fase di controlli Le due ragazze hanno in vano tentato di disfarsi di un panetto di cellophane Gettandolo dietro una recinzione Recuperato l'involucro si è appurato che questo conteneva cocaina Per ben 550 grammi come accertato dai controlli di rito Per le due donne sono scattate le manette e la reclusione nel carcere di Pesaro Ci sarebbero anche alcuni residenti nella provincia di Pesaro Urbino Coinvolti nell'operazione della Guardia di Finanza di Milano Che ha indagato 11 persone ritenute colpevoli di una frode fiscale Che avrebbe raggirato circa 1500 investitori Indotti a sottoscrivere pollizze per finti fondi immobiliari Costituiti alle isole Bermuda e in Linkestein Fra questi ci sarebbe un sessantenne pesarese promotore finanziario Accusato di esercizio abusivo della professione Agli 11 indagati le fiamme gialle milanesi Hanno complessivamente imposto un sequestro preventivo di capitale Di oltre 21 milioni di euro Ed ora i dati relativi al Covid sulla nostra regione Marche Una giornata di abbassamento dei contagi e dei ricoveri da Covid-19 Nella nostra regione infatti sono 70 i nuovi casi registrati Per una percentuale di contagio che si abbassa ora al 4,1% Scendono invece a 51 i ricoveri Cioè una decina in meno rispetto a due giorni fa Fra i ricoveri 15 persone restano attualmente in terapia intensiva Ed ora torniamo a parlare del caso Piada Marina Un caso che riguarda la sospensione dell'attività di questo chiosco del porto di Pesaro Che è stato al centro questa mattina della Commissione Attività Economiche del Comune di Pesaro Che ora si è attivato per un dialogo con l'autorità portuale Finalizzato a conciliare regole demaniali con esigenze imprenditoriali Ormai è un dato di fatto Entro la fine di ottobre il chiosco del porto di Pesaro Piada Marina verrà rimosso Ora però nelle stanze del municipio si lavora alla soluzione più indolore Per tutelare l'attività imprenditoriale dei gestori del locale Conciliandole con quelle disposizioni demaniali Che a settembre hanno imposto la cessazione dell'attività Per mancanza di quelle concessioni edilizie Che regolamentino Piada Marina ad una struttura fissa sull'area portuale Questa mattina si è riunita la Commissione Attività Economiche Convocata dal Vicepresidente della suddetta Commissione Francesco Totaro Alla presenza di dirigenti comunali e dell'assessore Francesca Frenquellucci Ed è emerso che per tanto tempo c'è stato un rimbalzo di competenze Tra l'autorità portuale, la Capitaneria di Porto e il Comune Ho visto tanti buoni propositi oggi in Commissione Sia da parte dell'opposizione che della maggioranza Ieri già c'è stato un primo contatto fra l'amministrazione e l'autorità portuale Che sta cercando una soluzione e speriamo che avvenga il prima possibile Si lavora dunque per trovare le condizioni più morbide e rispettose Dell'attività imprenditoriale in vista della prossima riapertura di primavera Dove Piada Marina ha acceso un riflettore d'approfondimento Anche su altre attività nell'area portuale Si pensa alla realizzazione di un bando comunale ad hoc E si tenterà la non facile strada di ripristino della collocazione tenuta in questi 16 anni L'intenzione dell'amministrazione è ripristinare il tutto E mi auguro che non sia più un qualcosa di provvisorio Ma un qualcosa di stabile per dare anche sicurezza a questi giovani imprenditori Un'ordinanza firmata dalla comandante della polizia locale di Pesaro Francesca Muzzini Ha disposto la chiusura temporanea al traffico di via San Decenzio Nel tratto compreso fra via Manzoni e via Flacco Il servizio lavori pubblici ha infatti segnalato il pericolo di distacco Di alcuni pannelli dalla parte del palazzo del Tribunale I lavori di messa in sicurezza dell'edificio saranno effettuati Non appena le condizioni meteo lo consentiranno L'ordinanza prevede anche la chiusura alla circolazione di via Gian Santi Eccezione fatta per i residenti In un argine del fiume Metauro nel comune di Sant'Angelo in Bado è stata trovata una discarica abusiva con 400 metri cubi di rifiuti derivanti da attività di demolizione edilizia Il gruppo Carabinieri Forestale ha dunque eseguito il sequestro preventivo dell'area appartenente al demanio idrico e attualmente concessa ad uso agricolo Sono stati contestati il reato di gestione non autorizzata di rifiuti e occupazione abusiva di suolo pubblico La Regione Marche realizza una partnership strategica tra imprese e istituzioni con la provincia cinese di Ainan A tale scopo è stato firmato questa mattina il memorandum tra la Regione e il comitato organizzativo della settimana internazionale del design di Ainan Per le Marche si tratta di un'intesa con un partner privilegiato per le attività di export alimentare del mobile e dell'abbigliamento L'accordo prevede che per un intero anno le aziende marchigiane avranno a disposizione uno spazio dedicato ad Ainan per promuovere le proprie eccellenze Anche il comune di Apecchio ha aderito all'itinerario della bellezza per l'anno 2022 L'accordo sottoscritto dal sindaco Vittorio Nicolucci fa salire a 14 comuni presenti all'interno del progetto di promozione turistica ideato e realizzato da Confcommercio Marche Nord Ed ora parliamo di teatro con la 74esima edizione del Festival GAD pronto ai blocchi di partenza Una bella emozione, una bella emozione perché la manifestazione è importante Il tempo per prepararla ne ho avuto poco e per calarmi dentro non ne ho avuto tantissimo però c'è un grande impegno e una voglia anche di ritornare a teatro, di rifare teatro, di rivedere le compagnie e quindi questa è una cosa molto positiva e soprattutto di ritornare tra virgolette a rivivere dopo due anni di fila di pandemia nei quali, bisogna sottolinearlo, il GAD è andato in scena ugualmente quindi sono dei segnali molto importanti di resilienza e di resistenza che abbiamo avuto e che ci proponiamo con questo di ripartire ancora più in forza, più forti di prima Sono cicli della storia, magari per motivi diversi, siamo riusciti a centrare i tempi previsti per i lavori in Sala della Repubblica del Teatro Rossini, tra l'altro promessi proprio a un avvio di stagione del GAD di qualche anno fa, necessari non solo la Sala della Repubblica ma tutto il teatro per avere un vero e proprio ridotto che sarà importante anche per le prossime edizioni e questo comporta qualche sacrificio tra cui il tornare allo sperimentale che però ha contribuito anche questo in determinate edizioni a fare la storia del festival quindi insomma è anche il teatro, sapersi adattare, ritornare, ricreare storie quindi grazie anzi a tutta la struttura del festival e anche le compagnie che parteciperanno anche per questo spirito di adattamento ma siamo convinti che questa cosa assieme anche all'edizione in Formula Festival, insomma raggruppata in pochi giorni e non diluita in molte settimane potrà contribuire a creare proprio un clima da festival Il festival aprirà con un appuntamento speciale a cent'anni dalla scomparsa di Ercole Luigi Morselli un straordinario personaggio del nostro territorio, uomo di lettere, uomo di teatro di cui ricorrono appunto quest'anno i cent'anni della scomparsa abbiamo deciso di dedicare a lui l'evento inaugurale del festival un convegno il 20 ottobre alle ore 17 al teatro sperimentale nell'occasione presenteremo anche un volume a cura di Lucia Ferrati fatto assieme all'ente e a Olivieri, sempre un volume fotografico dedicato sempre ad Ercole Luigi Morselli degli spettacoli presenti al festival abbiamo avuto modo già di parlare quindi anche quest'anno otto spettacoli in concorso e due appuntamenti fuori concorso ritorna a Bettrina a Pesaro, una giornata, una serata particolare dedicata a autori pesaresi con due monologhi rappresentati all'interno della stessa serata e un altro evento molto importante, torna a Pesaro Roberto Mercadini quest'anno uno spettacolo dedicato a Dante, i settecent'anni della scomparsa di Dante quindi celebriamo anche questa importante ricorrenza con Roberto Mercadini che due anni fa venne qua a Pesaro con uno spettacolo dedicato ai migranti e ritorna sulle ali di un successo straordinario che incontrò a Pesaro ma che poi in realtà è proseguito e adesso direi che è una vera star assoluta del teatro siamo contenti di averlo tenuto a battesimo quando non era così famoso e ora lo è veramente a livello nazionale così come lo è il nostro festival L'organizzazione ha pensato di aggiungere un ricordo di Eva Franchi che è stato il quarto direttore artistico del nostro festival ed ha lasciato una traccia importante a Pesaro con tante iniziative e non solo a Pesaro perché in giro per l'Italia e per il mondo ha difeso il teatro amatoriale e ha parlato sempre in modo molto efficace del Festival di Pesaro quindi ambasciatrice del Festival Nazionale d'Arte Drammatica personaggio importante del teatro italiano perché ha scritto una trentina di opere teatrali molte delle quali pubblicate, molte delle quali rappresentate anche all'estero e quindi oggi sarà l'occasione per ricordarla agli amici che l'hanno conosciuta o per dire qualcosa a coloro che non l'hanno ancora conosciuta E chiaramente noi seguiremo passo passo questo importante Festival GAD quindi seguiteci su Rossini TV e invece ricorre questo weekend il 28esimo anniversario della scomparsa di Don Gaudiano sul cui ricordo è stata istituita da anni la cosiddetta giornata della solidarietà vediamo qual è il programma di questa edizione A 28 anni dalla scomparsa di Don Gianfranco Gaudiano Pesaro celebra la giornata della solidarietà in ricordo di esempi e insegnamenti dell'uomo del fare che ha segnato un solco nella storia cittadina La Santa Messa in Cattedrale prevista alle 18.30 di domenica 10 ottobre data della scomparsa di Don Gaudiano sarà preceduta sabato 9 alle 15.30 al Cinema Loreto dall'incontro per educare Passione, Fiducia e Speranza organizzato da Fondazione Don Gaudiano, Comune di Pesaro e CEIS Il tema scelto quest'anno è l'educazione l'educazione dei ragazzi e dei giovani è stata chiamata la dottoressa Mariolina Ceriotti Migliarese una neuropsichiatra e psicoterapeuta per sviluppare il tema Ci saranno anche alcuni brevi interventi di Marcella Tinazzi, Don Giuseppe Fabrini, Roberto Drago Domenico Azzolini e Giulio Damiani La partecipazione è prevista per circa 150 persone Le iscrizioni vanno fatte presso la Fondazione Don Gaudiano E concludiamo il nostro telegiornale parlando di sport quello di ieri è stato un mercoledì particolarmente perfetto per il basket pesarese la VL ha battuto Trieste ottenendo la prima vittoria in campionato e l'ha fatto davanti finalmente il suo pubblico alla Vitrifrigo Arena Vediamo il servizio Finalmente VL La seconda giornata posticipata al mercoledì sera riconcilia la Carpegna Prosciutto Basket col pubblico di Pesaro che torna alla Vitrifrigo Arena dove mancava da inizio 2020 Tantissimo tempo Troppo per rimandare ancora la gioia della vittoria E così è stato Con vincente successo 74-61 con un incontenibile Tyrick Jones a trascinare con 24 punti la sostanza di Sanford e l'esperienza di Delfino a condire il tutto per i primi due punti in campionato dell'era Petrovic Questo è un lungo percorso che noi abbiamo fatto con tanti problemi Adesso abbiamo vinto la partita dopo 35 giorni che non abbiamo vinto Siamo stati consapevoli dei problemi che abbiamo fatto Penso che siamo andati in una direzione giusta Già abbiamo giocato una grande partita dieci giorni fa in Sassari dove per poche cose non abbiamo vinto Però in quella partita non vinta ha aumentato un po' la pressione sulla questa partita di oggi Ieri sera abbiamo rincontrato un problema con Matteo che è stato nostro senza nessun tipo di dubbio miglior giocatore di 40 giorni miglior giocatore senza nessun dubbio In momenti chiavi siamo consapevoli che ancora abbiamo problemi siamo lavori in corso strada facendo però siamo riusciti a giocare con una grande energia in difesa abbiamo giocato con cuore in difesa però questo è il problema che anche con tanto cuore abbiamo giocato in attacchi abbiamo fatto alcune scelte sbagliate penso che in attacco bisogna giocare più con la testa usare cronometro quando sei già 6-7 minuti a fine gioia per il pubblico tornato all'arena che ora Petrovic punta a far lievitare nei numeri di affluenza sull'onda di altre prestazioni da mettere in fila alla prima vittoria con dedica al super tifoso Marco Piccoli ricoverato in ospedale Io personalmente dedico questa vittoria a Marco Piccoli un tifoso che anche ai miei tempi è stato in vecchio palazzetto e auguro che si recupera in modo favorevole però penso che giocando così giocando con cuore, con la intensità penso che già contro Tortona possiamo arrivare più di 3.000 e a proposito di basket vi do una piccola anticipazione ma poi lo vedrete sulla nostra programmazione perché la prossima settimana torna l'attesissimo programma insieme a Canestro lo vedrete tutti giovedì in diretta alle ore 21.20 quindi segnatevi subito questa data sul calendario perché il giovedì su Rossini TV il giovedì sera sarà dedicato al basket mentre questa sera che cosa offre Rossini TV? Beh, sicuramente vi mostreremo l'inaugurazione della nuova sala del Caffè della Fortuna un'azienda ormai conosciuta da tempo che si è allargata e questa sera vi mostreremo tra l'altro anche il concerto live che si è tenuto il 2 ottobre il concerto degli Apnea quindi appuntamento alle 21.20 Vi ricordo anche che ogni venerdì alle ore 17.30 il sabato alle 10.30 e alle 16, la domenica alle 8 alle 11 grazie a Don Marco Di Giorgio perché potrete vedere su Rossini TV la lettura e il commento al Vangelo della Domenica Domani è venerdì e vi ricordo la seconda puntata del Vallefoglia Magazine Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine questa è la novità di quest'anno e descritte appunto nell'immagine vedete tutte le repliche l'approfondimento dedicato proprio a questa grandissima parte del nostro territorio Ho detto davvero tutto grazie per essere stati con noi adesso vi lascio con il meteo per i prossimi giorni e vi ricordo l'appuntamento con la Rassegna Stampa domani in conduzione alle 7.20 ci sarà con voi Daniele Sacchi e vi ricordo l'appuntamento con la Rassegna Stampa